E creiamo un altro gruppo musicale, perché tra l'altro ci mancava pure un chitarrista che abbiamo trovato nella persona di Michele Ricciotti, mi hanno detto veramente per quanto riguarda la professionalità, per quanto riguarda la competenza, dopo tanti studi siamo riusciti a dare anche un nome all'associazione, al nuovo gruppo musicale. Prendendo spunto da Tira Piena Barca, l'abbiamo chiamato, siamo cinque noi, diciamo, uno, due, tre, quattro, sei, perché poi... No, no, siamo cinque uomini. Allora l'abbiamo chiamato, l'abbiamo battezzato così, cinque uomini in piena barca in un mare tempestoso, diciamo così, quindi con la speranza che a voi possa piacere e passare una, diciamo così, una mezz'oretta insieme, mettendo da parte i nostri problemi e le nostre preoccupazioni. Io voglio precisare una cosa, come ho già detto in molte occasioni, mi fanno fare il cantante, io avrei preferito fare il presentatore, ma si fa nella voce maschile, però appena possibile, appena troviamo un cantante, sicuramente io farò il presentatore, però volevo dire che io, come Rita e Tonino sanno, e voi tutti sapete, io sono un modista, io faccio tutto con i piedi, mangio con i piedi, canto con i piedi, quindi bevo tutto con i piedi, la pietà di me, questo è tutto, allora, attenzione, vai!